Musica Buonasera e bentrovati a Obiettivo Prato, questa sera parliamo di Prato Forest City, l'iniziativa che è nata dal Comune di Prato, una strategia innovativa alla pianificazione urbana che prevede strategie di riforestazione all'interno della città ed è qui con me l'assessore Valerio Barberis, buonasera. Buonasera, buonasera. Ci troviamo tra l'altro nell'area del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci perché qui è stata messa in campo una delle ultime azioni di riforestazione, ci troviamo proprio davanti. Sì, allora questo è un esempio diciamo anche dove si verifica l'attecchimento degli interventi, quindi Prato Forest City è un programma che nasce dal piano di forestazione urbana del Comune di Prato che è stato approvato insieme al piano operativo comunale nel 2018, quindi Prato è stata una delle prime città ad avere un piano di forestazione complessivo all'interno dei suoi strumenti di pianificazione urbanistica che di fatto ha generato un'azione sia nella città dal punto di vista del Comune ma sia anche nella città dal punto di vista dei cittadini e delle imprese che oggettivamente sta portando davvero in città a una vera e propria transizione verde e con i risultati come questo che oggi si iniziano davvero a vedere. Quanti alberi sono stati piantati da quando il progetto ha avuto avvio? Allora la stima è che noi partivamo da circa 27 mila alberi di proprietà comunale, quindi stiamo parlando solo ed esclusivamente degli alberi di proprietà pubblica e oggi siamo a circa 31 mila, quindi un investimento importante, oltretutto molto importante perché rispetto ad esempio ad altre città noi come Comune abbiamo sempre deciso di fare interventi come questo, cioè piantare alberi già grandi, alberi che quindi hanno un portamento da albero, non piccole piante forestali, perché riteniamo che intervenire in una città densa come Prato e aggiungere verde significa costruire nuovi luoghi di socialità, nuovi parchi, nuovi luoghi che quindi riducono le temperature, l'isola di calore durante il periodo estivo, nuovi luoghi che i cittadini possono utilizzare. Ricordiamo lo Prato Forest City nasce da un progetto che è quello di Prato Urban Jungle, ricordiamo allora che cos'è? Allora nel 2020 circa il Comune di Prato, anzi nel 2019, fu ammesso a una sperimentazione europea appunto che si chiama Prato Urban Jungle. Allora i cittadini e le cittadine hanno più note alcuni aspetti di Prato Urban Jungle, quindi alcuni edifici su cui si è intervenuto, al Marolotto Zero, alle case popolari di Via Turchia e altri interventi a destra eccetera, ma in realtà uno degli interventi più importanti di Prato Urban Jungle è proprio quello di aver definito la strategia urbana complessiva per la forestazione urbana. Da Prato Urban Jungle quindi nasce Prato Forest City, che di fatto è l'applicazione applicazione della strategia di forestazione urbana contenute nel piano operativo comunale, ma aggiungendo tutta quella che è l'azione di come si foresta, di come foresta il Comune, di come si foresta attraverso l'azione dei cittadini e delle imprese. E quindi Prato Forest City diventa davvero quello che si chiama uno strumento di governance in cui la forestazione è interpretata quindi come incremento della natura, incremento degli alberi, ma soprattutto dove la forestazione non è solo un qualcosa che appartiene all'amministrazione comunale, ma appartiene a tutta la città e quindi permette a tutti i cittadini, le imprese e le associazioni di essere coinvolti in quest'azione di aumento del patrimonio arboreo della nostra città. Ricordiamo allora altre azioni rispetto a quella qui al Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, davanti alla quale ci troviamo? Allora questo in particolare ad esempio è un intervento che è stato finanziato insieme alla Regione Toscana, quindi con un progetto che si chiama Toscana Carbon Neutral, che ha previsto interventi qui al Centro Pecci, in Via Nenni, quindi dove è stato demineralizzato il parcheggio di Via Nenni, è stato costruito un vero e proprio nuovo parco sostanzialmente e il cantiere è in una fase molto avanzata, e in Via Reggiana, quindi interventi lungo la declassata che hanno portato svariate centinaia di alberi lungo un'arteria di traffico tra le più importanti della nostra città. Ma interventi sono molteplici, i cittadini avranno visto per esempio in questi giorni, è in fase di piantagione tutta la foresta urbana di Via dell'Orione, quindi lungo Via Lallende, in quel caso tra l'altro un'azione straordinaria fatta in sinergia con l'Associazione Arte Continua, che è una delle gallerie d'arte, l'associazione di arte contemporanea più importante al mondo, che insieme a Stefano Mancuso e alla società PINAT appunto hanno donato al Comune la possibilità di realizzare quell'intervento che si chiama Bosco delle Nerofiche. Ma sono in corso tantissimi interventi, anche in centro storico, per esempio in questi giorni chi frequenta la biblioteca Lazzarini al Polo Campolmi vedrà che anche lì è in corso un intervento di forestazione. Quindi la forestazione cioè è un intervento che agisce in tutta la città, compreso il centro storico, e l'evoluzione finale diciamo di questo programma è il piano di forestazione diffusa che è in corso, che sta portando circa mille alberi in tutte le frazioni della città, anche con interventi molto piccoli, ma di cui sono monitorati i benefici in termini ambientali, di prevenzione sanitaria e soprattutto le azioni che possono fare nelle categorie cosiddette più vulnerabili, quindi bambini 0,6 anni e over 65. In che modo i cittadini assessori possono contribuire anche a questo piano di riforestazione della città di Prato? Allora Prato Forest City, come dicevo, è alla fine un portale, quindi è un programma che tiene insieme le strategie di forestazione e che sostanzialmente possiamo dire ha due grandi missioni, una quella diretta del comune che attraverso i suoi investimenti o con investimenti ecorisorse regionali, nazionali, europei, investe e quindi aumenta il patrimonio arborio con progetti diretti, come ad esempio questo. Un altro invece sono le azioni che possono essere fatte attraverso un programma di crowdfunding o comunque di finanziamento da parte dei cittadini. Prato Forest City quindi è un portale da questo punto di vista che sostanzialmente permette a tutti di finanziare e di aumentare il nostro patrimonio arborio, da finanziamenti di singoli cittadini e cittadine con il programma Dona un albero, dove ognuno può donare un albero, quindi georeferenziato in alcune zone della città, ad attività invece con le imprese, sono decine le imprese che dei più svariati settori hanno donato alberi o perché ritenevano che fosse bello avere davanti alla loro sede, magari in un parcheggio pubblico, in uno spazio pubblico degli alberi, o perché davvero a questo punto può rientrare anche nelle loro strategie di compensazione di cosiddetta neutralità climatica, cioè le compensazioni di CO2. Oppure ancora associazioni che fanno interventi e investimenti nella città, sia nella forma di aumentare, quindi di donare degli alberi, che nella forma anche di gestire delle aree di proprietà pubblica. E ci siamo spostati nell'area sport di Via Firenze perché il suo assessorato ha seguito anche questo progetto, oltre a quello di Prato Forest City, quello di Reversibility, che prevede strategie innovative lungo tutto il corso del fiume Bisenzio. Sì, allora il progetto Reversibility nasce tra l'altro in sinergia con ASL Toscana Centro e sostanzialmente fa un'operazione che è questa, prova a declinare come la città e i suoi spazi, soprattutto verdi, i suoi spazi pubblici, possono diventare uno strumento per la prevenzione sanitaria. E quindi, diciamo, in qualche modo lavora sulla prospettiva in cui lo spazio pubblico diventi un luogo in cui stimolare le attività di vita sane. Tutti ci dicono che bisogna camminare, bisogna fare attività fisica, eccetera. Ecco, Reversibility è questo, costruisce dei luoghi nei quali sia facile fare attività sportiva, attività fisica, eccetera, per i cittadini che gravitano intorno al Bisenzio e le stime dicono che 5 minuti a piedi sono circa 100.000 persone. Quali progetti, oltre a questo che è uno degli ultimi inaugurati, sono stati compresi in questo ambito? Allora, i progetti sono molteplici. Allora, Reversibility ha consistito sostanzialmente intanto nel dare un nome, quindi a questo come un parco fluviale che ha un nome. Questo è stato declinato poi in tutti gli arredi, sono stati sostituiti tutto il sistema degli arredi, create delle zone che erano meno illuminate, illuminate molto di più, in modo tale da dare anche a lavorare sul tema della sicurezza, della percezione della sicurezza, ma poi dopo è stata fatta una vera e propria infrastruttura del parco con, che cosa? Con aree sportive come questa, queste sono delle aree sportive che si trovano qui a Mezzana, ma anche a Santa Lucia, dove tutti possono fare attività fisica e ginnastica dolce. Ci sono delle aree addirittura per le persone più anziane, quindi in quel caso si parla proprio di ginnastica passiva, tra i due bocciodromi di Viale Galilei esiste proprio al Giardino degli Olivi un'area come questa. Ci sono altre aree invece, chi vuole fare attività fisica più forte, quindi il cosiddetto calisthenics, e quindi in particolare a Mezzana e anche lungo il Bisenzo, in arriva a sinistra, possono fare questo. Non solo, ci sono molteplici aree dove possono fare zone feste, dove poter fare feste per i bambini, o piuttosto nuove aree gioco. Sono stati insediati dei cosiddetti container che funzionano come punti ristoro o sede di associazione, ma ancora ci sono tantissime nuove aree sportive come per esempio i due playground, in particolare il playground di Oghi Giuntoni al Serraglio e il playground per il basket a Mezzana. Ecco, infatti, proprio anche per trarre un bilancio di quello che è successo negli ultimi cinque anni, anzi negli ultimi dieci, possiamo dire, sono state le due aree del playground, quelle che hanno inserito maggiormente una novità anche all'interno delle pratiche di socializzazione della città. Assolutamente. Diciamo, in quei casi si vede come l'obiettivo, che è un obiettivo anche molto semplice se si vuole, è quello di stimolare le persone che vivono intorno al Bisenzo a scendere e a fare attività fisica. In quel caso effettivamente ha funzionato, non solo ha funzionato, ma in quel caso anche grazie alla collaborazione con le associazioni sportive della città, in quel caso tutto il movimento che sta intorno allo street basket, si sono creati nuovi eventi come appunto il Torneo dei Rioni, oppure un altro evento che la città ha imparato a conoscere è la spiaggia urbana, che rientra sempre nel progetto Riversibilità, una funzione temporanea, ma che sta in una prospettiva in cui chi sta a casa durante il periodo estivo non se lo può permettere o preferisce stare a Prato, trova uno spazio come quello. Quindi diciamo la prospettiva è quella di fare in modo tale che tutte le cittadine davvero possano avere degli spazi in cui poter fare ginnastica, attività fisica gratis. Questo è un ulteriore elemento importante, cioè si creano delle condizioni per cui tutti, a prescindere dalle loro condizioni economiche, abbiano davvero la possibilità di usufruire della città nel posto più bello che è il Parco Floviale, ma soprattutto possono fare attività fisica. Che città è quella che lei in qualche modo lascia, tra virgolette, dopo questi dieci anni di assessorato all'urbanistica? Allora, Prato è una città straordinaria e lo è, quindi non dipende da quello che abbiamo fatto noi in questi dieci anni, Prato lo è. Quello che credo che in qualche modo abbiamo aggiunto è una maggiore consapevolezza di se stessa. Prato oggi è una città che esiste in tantissimi contesti, non solo nel contesto del distretto tessile, si è qualificato molto per esempio il tema dell'economia circolare, quindi Prato è oggettivamente riconosciuto a livello europeo come una città paradigma sull'economia circolare. Ma quello che è più importante probabilmente è che Prato è emersa anche sui temi ambientali, cioè da essere considerato una città fabbrica e quindi in qualche modo in un'accezione in cui la città e la fabbrica non è così collegato alla natura. Prato oggi invece è una città che guida il movimento di tantissime città a livello europeo e internazionale su questa nuova relazione che le città devono avere con la natura. E quindi Prato Urban Jungle, Prato Forest City, Reversibility, tanti progetti, gli interventi nelle scuole, sono interventi che hanno dato alla città la consapevolezza che il verde esiste e fa bene, è un verde di cui tutti si devono occupare. E fuori dalla città Prato è davvero considerato una città rilevante su questi aspetti, una città che fa guida. L'ultimo esempio appunto è l'ammissione al programma Centro Climate City, che ha posto Prato tra le 100 città più evolute a livello europeo sul tema della transizione ecologica e climatica. Tutti questi interventi con quali risorse sono stati realizzati? Le più svariate. Il progetto Reversibility ad esempio è stato finanziato con un programma nazionale per la riqualificazione delle periferie. Quindi in questi anni abbiamo trovato il modo di intercettare tutte le risorse possibili e immaginabili per Prato. Siamo arrivati a contare circa 400 milioni di euro di soldi che sono stati ottenuti per la città dal livello europeo, nazionale o regionale. E quindi davvero in questi anni i cittadini hanno visto che facendo una buona pianificazione, una buona programmazione, ma soprattutto lavorando in progetti come questi che intercettano finanziamenti importanti, c'è la possibilità di infrastrutturare la nostra città sempre di più, in questo caso in una direzione verde, ma davvero intercettando finanziamenti che vengono da fuori dalla città e quindi portando risorse nella nostra città. Grazie all'assessore Barberis, da Obiettivo Prato per questa puntata è tutto.